buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la b maiuscola unica al mondo oggi rispondo ad una mamma ad una signora di new york che mi scrive dottore ho una bambina autistica che ha nove anni ho fatto tutto di più ma il problema persiste e mi fa venire veramente l'impotenza la frustrazione perché tocca tutto apre tutti i mobili salta urla si struscia davanti lavatrici chi più ne ha più ne metto cosa mi consiglia perché vedo che non esiste nulla in giro ho visto il tuo video volevo chiedervi che cosa fare la mia risposta a questa signora ma anche a te che mi segui è far capire alle persone che tutto proviene dal proprio subcosciente della propria mente anche per i bambini l'ipnosi dcs vera professionale con la b maiuscola unica al mondo funziona anche per chi non può o chi non vuole essere aiutato anche per i bambini autistici ecco perché l'ipnosi dcs vera professione la b maiuscola è unica al mondo io consiglio a questa signora anche a te di scaricarsi due audio mp3 dcs molto potenti e naturali senza nessun effetto collaterale dal titolo no autismo numero uno e no autismo numero due poi ci sono anche audio dcs personalizzati in base al bambino alla persona autistica e ci sono anche delle sessioni online di ipnosi dcs che sono sospese perché sono molto impegnato e non ho molto tempo però ti posso garantire che con gli audio mp3 dcs molte famiglie hanno risolto molti problemi dei loro figli autistici se solo se hanno seguito le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro ti prego non credere a me pensa che l'ipnosi dcs vera professionale con la b maiuscola unica al mondo e non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale pur ottima da cui sono partito di milton erickson development brian weiss per staccarmene e sposare il l'ipnosi vera professionale a v maiuscola di los angeles bevin ilsi due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola unica al mondo la dottoressa rina brunini il professor dottor michelanghelgerai i miei maestri miei mentori miei associati miei amici per l'eternità su cui ho fondato letteralmente il metodo dcs unico al mondo di ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo e l'ho testato da più di 12 anni sulla mia pelle su una parte minima dei miei carie su centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo con risultati a dir poco strabilianti e infatti dal 2008 ad oggi mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra né a te né a sedicenti esperti di ipnosi qui si parla ragazzi di ipnosi dicesse vera professionale a v maiuscola unica al mondo pratica pratica concreta io sono un seguace di santo maso se non vedo se non tocco non credo inoltre l'ipnosi vera professionale a v maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione america mondiale nel 1958 della stessa chiesa con papa pio nono nel 1847 lo stesso papa giovanni paolo secondo papa voitila il papa polacco si auto ipnotizzava per imparare le lingue straniere ne conosceva più di 12 come ha dichiarato lui nella sua biografia un libro così grosso che mi invito ad acquistare e a leggere qui non sto per vendere audio mp3 dicesse che gli ho ceduti alla mia associazione ipnosi associati los angeles baby hills perché grazie a dio grazie al mio subconscio e grazie all'ipnosi dicesse vera professionale con la v maiuscola unica al mondo sto bene per le prossime 37 vite ma per diffondere le mie esperienze diretta in diretta a te e alla gente di buona volontà chi mi ama mi segue chi non mi ama faccia la propria vita però se tu le hai provate tutte zero risultati che ti costa rinunciare ad una colazione al giorno per soli 30 giorni per provarci ecco la domanda che devi fare pensare immaginare i benefici che hai che avrai perché se tuo figlio in questo caso autistico non lo sopporti più perché purtroppo i bambini autistici fanno queste cose aprono chiudi chiudono cassetti urlano si strusciano davanti alla lavatrice non si fermano mai ti stressano ti sauriscono ti prosciugano le energie per parlare solo degli aspetti accettabili tra virgolette perché poi ci sono anche gli aspetti violenti bene perché no e questo non toglie nulla ad altri metodi o ad altre cure terapie che stai facendo perché l'ipnosi dicesse vera professionale v maiuscola unica al mondo non ti obbliga ad eliminare ciò che stai facendo adesso con altri professionisti in qualsiasi parte del mondo in cui abiti per cui solo a te la scelta ok perché considera che nel sottoscritto nell'editor negli associati dell'associazione i prologi associati di los angeles baby reels anche se l'associazione conta molti medici molti psicoterapeuti molti psicologi noi non facciamo né diagnosi né cura né terapia devi sempre comunque andare dal tuo medico dallo specialista della salute a prescindere dal paese nel mondo in cui abiti farti fare la diagnosi e poi integrare se non hanno nulla al contrario il responsabile della tua salute o della salute di tuo figlio con l'ipnosi dicesse vera professionale v maiuscola unica al mondo che è fatta solo di parole 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 semplici naturali e trasparenti comprensibili però parole dicesse suggestioni dicesse create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere testate su migliaia e migliaia di persone bambini adulti anziani all'arco di quasi un secolo per cui che guideranno il tuo subcosciente a realizzare il miracolo della tua stessa mente senza ma e senza se fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e flash share condividi con amici e parenti perché può essere quel guid quella molla che gli può cambiare la vita e ti può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico amico amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino alla tua ciao